Sì, che cantano tutti seduti a terra insieme a degli autori per ragazzi, le ragazzine che cercano questi autori si fanno firmare anche lì i libri, un teatro pieno di minorenni contenti, non tipo la ragazzina drogata e portata a Cagliari, c'è proprio, loro consapevolmente erano lì e quindi quello che mi ha colpito di Iglesias sicuramente complimenti per quello che state facendo con le scuole, per quanto sia il festival in cui sono stata una sola volta, dobbiamo recuperare, però ecco è stato impressionante. Riccardo Cavallero, giovedì di SEM, mi dicono, io ho conosciuto la prima volta,